Ben tornati a tutti gli appassionati che con trepidante attesa aspettavano proprio questo momento. I nostri preferiti, la categoria giovanissimi che a nuvolera ha iniziato la stagione 2015 sfidandosi per il trentesimo trofeo comune di nuvolera Memorial Aldo Facchetti e nelle immagini proprio la partenza della categoria G1. Possiamo solo immaginare la grande emozione per questi atleti che stanno affrontando la loro prima gara, la prima di una speriamo lunghissima carriera agonistica. Per questa categoria sono due i giri in programma sul classico circuito che anche quest'anno gli amici del GS Nuvolera hanno organizzato. Ed eccoci al primo arrivo di questo 2015 dove due maglie della Ronco si contendono la vittoria ed è Giulio Franceschini che precede il compagno di squadra Nicolás Reccagni. Al terzo posto Daniel Fagoni della Mazzano. Leggiamo quindi la classifica. Quinta posizione per Filippo Bonazzoli della Spring Edi. Quarto suo compagno di squadra Matteo Mori. Terzo Daniel Fagoni della Mazzano. Secondo Nicolás Reccagni della Ronco Maurigi e vincitore il suo compagno di squadra Giulio Franceschini. Tra le bimbe terzo posto per Martina Benvenuti della Mazzano. Seconda Margherita Putelli della Castelmella e vincitrice Alessia Baratta del progetto ciclismo Rodengo Saiano.